E' stato un grande lavoro che abbiamo fatto con un risultato che sarà l'inizio di una lunga strada che ci porterà magari ad avere soddisfazione rispetto a questo tema che è giusto che abbia meritato la nostra attenzione tutto tondo. Io invece voglio parlare di un gruppo di lavoro che si è unito dentro questo progetto che ha dato delle grandi risposte dal punto di vista della gestione logistica, organizzativa, relazionale e politica e che ha fatto in modo che lungo i 10.000 km che abbiamo percorso in tutta Italia ha portato i valori della Wilka all'attenzione della gente, all'attenzione della politica, all'attenzione di ogni ambito sociale. Quindi credo che il più grande successo di questa campagna sia aver lavorato in funzione di muovere attraverso il lavoro dello staff anche tutti i territori della Wilka, il concerto della Wilka che hanno partecipato a questa grande avventura.